Dopo la conferenza di mercoledì scorso, Di Palma ha fatto ritorno nella sua vicenza per studiare a distanza le prime mosse finalizzate a reperire i soldi utili a iscrivere il Campobasso alla prossima seconda divisione. Scadenze e cifre, eccole qua. Entro il prossimo 25 ci sono da saldare gli stipendi dei giocatori, da gennaio fino ad aprile. Entro la prima metà di agosto andranno corrisposti gli altri due mesi residui. Entro lunedì 1 luglio Di Palma dovrà presentarsi in lega con una fideiussione di 400 mila euro con allegata una tassa di iscrizione pari a 50 mila euro con l'aggiunta dei contributi da versare ai giocatori quest'ultima somma pari a 120 mila euro. Di Palma sarà a Roma lunedì prossimo per recarsi presso il credito sportivo, una sorta di banca che elargisce finanziamenti esclusivamente alle società sportive. I finanziamenti che cerca Di Palma dovrebbero essere destinati a una riqualificazione dello stadio di Selvapiana, laddove si è giocato per due stagioni in deroga rispetto ai criteri richiesti espressamente dalle direttive della Lega Pro. Lunedì 17 il nuovo presidente sarà a Campobasso per adempiere a un appuntamento con il sindaco Di Bartolomeo, cui già sarebbe stato riferito da Di Palma il nome di un architetto che dovrebbe anche essere uno dei nuovi partner della società Rosso Blu. Il nuovo presidente precisa altresì di avere in mente una società estremamente ristretta nei suoi piani alti, laddove sarà Di Palma stesso ad assorbire molte delle principali funzioni. Il vicentino non perceperà compensi ma solo rimborsi spese per i suoi viaggi da Vicenza a Campobasso. La novità proveniente sia dalla voce di Recchi che da quella di Di Palma riguarda la conferma di Capitan Minadeo, evenienza già desumibile da una chiacchierata intercorsa tra Di Palma e il Capitano, prima ancora che si chiudesse la trattativa con Capone. I due nuovi dirigenti Rosso Blu confermano di aver preso visione precisa del quadro dei contratti. Cinque o sei appartengono a giocatori di proprietà e si vocifera. Alcuni di questi dovrebbero trovare ancora spazio nel Campobasso che sarà. Recchi nutre profonda stima anche verso Maiella, altro giocatore di spessore e di profondo gradimento alla piazza. Il neo di esse Rosso Blu però non vuole sbilanciarsi su una possibile conferma del bomber Rosso Blu che noi però riteniamo opportuna. Capitolo allenatore. Scendono notevolmente le quotazioni di Vullo, anzi potremmo già darlo quasi per ex del Campobasso. La piazza lo avrebbe voluto, lo testimoniano anche frequenti prese di posizione avute ieri sul social network Facebook laddove si era anche lanciata una petizione per la conferma del messicano sulla panchina Rosso Blu. Recchi annuncerà il prossimo tecnico del Campobasso tra martedì e mercoledì. Tra i nomi fatti in questi giorni non trova riscontro né Discepoli ma nemmeno Orsi che sembra contrastare con il budget a disposizione di Recchi. Il di esse Rosso Blu vuole un allenatore giovane e motivato. L'ex Cisco Roma Chiappara potrebbe corrispondere a tali identikit anche se viene scartato dalla lista del nuovo direttore.